L'aspetto umanitario del lavoro, quindi tra sé, è più importante. Se c'è un'innovazione forte, la gente viene prendendo, cioè si interessa. Questo è lo stampo, io colo qua dentro. Quando si tocca il contenere, si sente un po' di calore, il materiale comincia a reagire. Vedi perché è interessante reagire? Ed è proprio fare come un dolce. Ecco, ma in realtà tu scende, allora io decido di metterle ancora a prendere. Lo prendo e faccio così. Allora, quando faccio così, scende la tua parte. E siccome il gesto non è mai lo stesso, fa una forma che è di volta e di volta diversa. La persona che fa decide. Tutto questo è molto artigianale. Usare la creatività della gente, consentire alla gente di esprimarla. E' la tecnica del futuro, perché un giorno tutti si esprimeranno. Sempre più mezzi per poterlo fare e troppo poca abitudine.